Confindustria Taranto, CNR e Distretto Produttivo Ambiente e Riutilizzo hanno siglato un protocollo d'intesa finalizzato alla cooperazione nei settori della ricerca e innovazione tecnologica di risanamento ambientale. Le parti si impegnano nel rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia di ciascuna a coordinarsi attraverso un comitato nelle azioni necessarie ad affrontare operativamente la bonifica ed il controllo dell'ambiente del territorio ionico. Si tratta come noto di interventi urgenti stabiliti da leggi e decreti e per i quali sono previsti finanziamenti dello Stato che comprendono anche riqualificazione e riconversione industriale. Il futuro dell'industria ionica va letto anche in questa chiave Enzo Cesario, presidente di Confindustria Taranto. Sono fra le chiavi dell'industria di Taranto, sono fra gli asset portanti di questa presidenza. Oggi una giornata importante, fermiamo un protocollo che aveva avuto gestazione lunga perché siamo stati troppo presi dalla madre di tutte le emergenze. Oggi ci avviamo alla normalità per la vicenda ILVA e quindi a questo punto siamo pronti a ripartire e prontamente abbiamo chiamato a raccolta il mondo della ricerca, il mondo della scienza, il CNR e il parla. Grazie.